Saccale, ha meno. In questo tempo, in questo tempo... ...eppisci. Avremo o non avremo? Non mi ricocano. Non è ancora da spettare. Trova uno. Ma ogni po' ti lo lascio a prendere. Ah, lì, 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 lì. Bolla! Bolla! Tutto con la rauna. No, stai saltando con il modello. Eh, è andò. No, not sexy, no. Sì, no. E' lì, lì, lì. Bisogna arrivare. Ehm? Ma questa è un'era di arrivare. Quattro? Signi che ti accorto. Non è utilizzato. Ma è qui, c'ero non è imparciato. Non è il mio papapé. Non è quello che mi raccogna. Non è il mio papapare. E in questo caso, il mio papapare è un'unica. Non è il mio papapare. Grazie a tutti. E' un po' di lampo di qua! Putta la merda! Il numero di qua! Guarda se c'è un numero eh! Andò di là, di qua! E' un po' di lampo di qua! Ti ha pettato proprio ben bene! Se ne va eh! Poi ti dà! Ma c'è il mio cuore! Ma c'è il mio cuore! Se no è fornato! Ma come questa mattina non lo avete visto? C'è! C'è! Se scappa questa macchina da un talman minchia! Ma tu! Hai visto che spende da lì? E' preso eh! Cazzo se l'ho preso! Ma sta puntata da là! E' preso per la risala! Non c'è! E' preso per la risala! No, lo so, però! Un po' di spettacolo o qualcosa, no? Non c'è! Lo so! E' preso per la risala! Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.